Ciao a tutti, sono San Giorgio Roberto, sono studente del corso di Aura Magistrale in coordinamento e gestione dei servizi educativi LM50, l'Aura Magistrale che conferisce il titolo di pedagogista e anche la formazione per svolgere l'attività professionale di coordinatore dei servizi educativi o coordinatrice, ho scelto di intraprendere questo percorso di studi in seguito al conseguimento della laurea triennale in scienza dell'educazione, questo perché credo e credevo all'epoca nella necessità di implementare la formazione dal punto di vista pedagogico, educativo e teorico ma soprattutto anche dal punto di vista professionalizzante. Una nota assolutamente positiva di questa tipologia di corso di Aura Magistrale è sicuramente la sostanziosa formazione professionale sia dal punto di vista teorico ma soprattutto dal punto di vista pratico, professionalizzante, che conferisce competenze trasferibili e applicabili all'interno del mondo reale grazie al tirocinio diretto e al tirocinio diretto.